vastamente influente in ambienti ecclesiastici. A fronte delle confusioni di Franchi, Bozzetti spiegava con chiarezza la dottrina rosminiana, ma soprattutto rispetto alla contrapposizione operata da Franchi tra Rosmini e Sant'Ommaso, Bozzetti mostrava l'attenzione di Rosmini a sviluppare la tradizione scolastica, armonizzando Sant'Ommaso e il tomismo con la corrente francescana di San Bonaventura e dello scotismo. La riflessione di Bozzetti forniva anche una nuova chiave propositiva che si potrebbe definire neorosminiana, sviluppare la filosofia di Rosmini in risposta ai problemi del pensiero a lui successivo fino al Novecento, affrontando così questioni nuove, con teorizzazioni nuove, pur a partire dai fondamenti teorici del rosminianesimo. Si può dire che progressivamente l'impulso culturale più forte... Ringrazio l'amico e collega Claudio Ciociola e gli organizzatori del convegno per avermi invitato a parlare di una delle grandi figure degli anni della mia scuola normale. E mi scuso con voi per la voce ma sono molto affreddato, uno dei malanni, come si è detto prima, di stagione. Gianfranco Contini considerava come uno dei fatti più importanti dell'Ottocento Solano l'installazione dei padri rosminiani. Certamente era così. Attraverso l'amicizia milanese con Giacomo Mellerio, che aveva proprietà a Domodossola, Antonio Rosmini era giunto nella cittadina piemontese e al Calvario aveva scritto nel 1828 le costituzioni dell'Istituto della Carità, dando così inizio alla sua opera fondativa. Più tardi, nel 1837, a Domo, in un edificio messo a disposizione da Mellerio, aveva trovato la sua sede del collegio, tenuto dai padri rosminiani, e poi intitolato appunto a Mellerio e a Rosmini. Per la presenza sia di tale collegio sia della casa madre del Calvario, Domodossola era dunque uno dei luoghi fondamentali della topografia rosminiana, insieme a Rovereto, alla più vicina a Stresa e a pochi altri luoghi. Nei primi anni del Novecento l'Istituto della Carità, cioè appunto la congregazione religiosa maschile fondata da Rosmini, era una realtà piccola e soprattutto pativa ancora all'ostracismo che in campo cattolico, dopo il cosiddetto decreto post obitum del 1887, gravava sul rosminianesimo come corrente di pensiero filosofico, ritenuta ancora, nella gran parte degli ambienti ecclesiastici, eterodossa, per una certa presunta inclinazione all'ontologismo, all'idealismo, se non addirittura al panteismo. In questo clima generalmente sospettoso e ostile, nel momento di maggiore sfortuna del rosminianesimo in Italia, vi fu un piccolo gruppo di filosofi rosministi di stretta osservanza, come Lorenzo Michelangelo Bilia, Giuseppe Morando, Carlo Caviglione, che cercarono con molta fatica di difendere il indifendibile. In questo ambito, autonomo rispetto alla congregazione religiosa, fu fondata la rivista rosminiana nel 1906 sotto la direzione di Morando. L'obiettivo di diradare ogni ombra di eresia spingeva, peraltro, questi rosministi ortodossi ad una certa rigidità. A fianco di tali filosofi rosministi, ma con una posizione originale loro propria, stavano alcuni giovani religiosi rosminiani, anch'essi decisi nella difesa di rosmini, non solo per le questioni squisitamente teoriche, ma anche per le loro implicazioni ostracizzanti sul piano ecclesiale. Così, padre Giuseppe Bozzetti, laureatosi in giurisprudenza nel 1900, in filosofia nel 1908 e in lettere a Roma nel 1909, il quale inoltre dal 1911 diveniva rettore del collegio Mellerio Rosmini di Domodossola, nel 1917, quasi su un mandato del padre generale Bernardino Balzari, pubblicava uno studio sull'ultima critica di Ausonio Franchi, un'opera di quasi trent'anni prima, ma ancora ne passò dai rosministi ortodossi d'inizio 1900 al neorosminianesimo collegato all'Istituto della Carità. Certo, l'ambiente domese e ossolano si era culturalmente molto arricchito con la presenza dei rosminiani. Nell'intervista a Ludovica Ripadimeana, Contini ricordava il collegio di Domodossola, del quale era stato allievo, cito, «e come tutte le altre scuole. Ma ci sono sempre le tracce di quello che fu l'uomo eccezionale che fondò all'ordine, Rosmini. Era un personaggio indubbiamente di grandissima qualità, e nella mia formazione c'è certamente qualche cosa della filosofia, o meglio della teologia, o meglio ancora, della teodicea di Rosmini, soprattutto dell'ascesi rosminiana». Ma il punto di vista prevalentemente ossolano e in qualche modo dimesso di Contini non deve ingannare. Il collegio Mellerio Rosmini di Domodossola, negli anni venti in cui Contini vi fu allievo, non era semplicemente una delle tante scuole fondate e promosse dall'Istituto della Carità, come poteva essere per esempio il Leone XIII di Milano per i Gesuiti. Era in realtà la più illustre fra tutte le non molte scuole dei rosminiani, fornita di un'ottima biblioteca che il giovane Contini ebbe il privilegio di frequentare. In stretti rapporti con il collegio era ovviamente il Calvario, che rimaneva la casa madre dell'Istituto. Domodossola, dunque, considerando sia il collegio sia il Calvario, si trovò ad essere il luogo più vivo e importante in assoluto del rosminianesimo di quegli anni nel suo complesso. Dunque non una piccola realtà periferica, come si potrebbe pensare, ma il centro vitale e pulsante sul piano culturale e direi anche spirituale dell'intero movimento che si riconosceva erede del prete filosofo di Rovereto. Si trattava certo di un piccolo mondo, ma molto compatto, consapevolmente fiero e geloso della propria identità, attentissimo anzi verso ogni anche piccolo accenno superficialmente critico o storicamente infondato che gettasse ombra sulla memoria di Rosmini. La psicogenesi degli atteggiamenti di fondo che animavano tale piccolo mondo non conduceva tuttavia ad asprezze polemiche, chiusure al dialogo e all'aggiornamento, conservatorismi difensivi e archeologici. Al contrario, la fedeltà a Rosmini si giocava proprio sull'apertura senza pregiudizi e sulle capacità dialogiche, cioè insomma su una vera simpatia per la modernità. Si trattava pertanto di un piccolo mondo moderno. Gianfranco Contini entrava nel ginnasio del collegio Mellerio Rosmini nel 21-22, dunque nel momento del collasso del sistema liberale italiano. Nel Rettore Bozzetti si poteva allora registrare una simpatia che direi rosminiana per il Partito Popolare. Ancora nel 26, nella cerchia domese, si cercava di proporre una linea rosminiano personalistica che non citava mai il fascismo ma discuteva croce. Tuttavia il progressivo consolidarsi del potere mussoniliano e il conseguente regime fascista dovevano in realtà portare a una nuova consacrazione nazionale della figura di Antonio Rosmini e questo non poteva lasciare completamente indifferente lo stesso ambiente rosminiano domese. Intanto il giovane ginnasiale fu subito introdotto alla conoscenza della figura di Rosmini. Alla fine della Quinta Ginnasio, il 25 giugno 1926, ricevette il primo premio della scuola di religione diretta dal professore Don Camillo Risso. Il premio consistette nella Piccola Vita di Antonio Rosmini, scritta da Giovanni Battista Pagani. Ma tra i libri appartenuti a Contini e da lui annotati, vi è pure l'edizione del 29 del ritratto di Rosmini steso da Niccolò Tommaseo. È molto probabile, inoltre, che Contini conoscesse presto l'ampio discorso sulla figura di Rosmini tenuto da Fogazzaro nel primo centenario della nascita del Roveretano. Si trattava di un testo molto noto e apprezzato negli ambienti rosminiani. A me pare che alcuni fondamentali tratti della visione continiana di Rosmini dipendano da questo scritto. Contini, allievo esterno, cioè non convittore del ginnasio e del liceo, frequentò dunque il collegio dal 21 al 29, trovandovi un ambiente a lui congeniale, come testimoniano tra l'altro le brillanti valutazioni scolastiche. Tra i suoi condiscepoli, sia pure in anni diversi, vi furono Dante Morando, convittore, figlio del già ricordato Giuseppe, più anziano di Contini, e più giovane, Remo Bessero Belti. In quegli anni furono al collegio con ruoli diversi due padri rosminiani destinati ad essere prepositi generali dell'Istituto, e cioè Bozzetti e Gaddo, e altri tre che sarebbero stati prepositi provinciali, e cioè Pusineri, Bassani e Biagioni. Vi furono ancora Giovanni Battista Nicola, uno dei maggiori studiosi del pensiero politico di Rosmini, e Guido Rossi, allora indagatore della gnosiologia rosminiana e futuro biografo del roveretano. Altre figure significative di docenti furono Antonini, Luigi Zoppetti e soprattutto Camillo Vignino, per alcuni anni vivace direttore della rivista rosminiana, come si vedrà ancora più avanti. Nel Trenta giunse, dopo un processo di conversione di ascesi, Clemente Rebora, che entrava nell'Istituto della Carità e che tenne pure qualche insegnamento. Si trattava dunque di una scelta pleiade di personalità spiccate e quasi direi carismatiche, e di studiosi di livello universitario. I legami umani, intellettuali e spirituali stabiliti da Contini negli anni scolastici domesi rimasero sempre molto solidi, anche se diversamente modulati. Egli fu soprattutto legato a padre Bozzetti. Anche Contini, come altri che lo conobbero, vide in Bozzetti i segni della santità. Fin dal 36, in una lettera a Cecchi, parlava di lui come uno dei due santi che conosco, ma dei due il santo logico, razionale e dottore della Chiesa. In qualche modo, il ginnasio liceo del collegio realizzava al meglio l'ideale di alti e severi studi, ma anche di unitarietà ideale e filosofica auspicato e promosso dalla riforma gentile. Tuttavia, la filosofia centrale e onnipervasiva non era l'idealismo, bensì il rosminianesimo, che ispirava tutti i docenti, ma anche sacerdoti religiosi che comunque partecipavano di quella che per i giovani convittori era quasi un'istituzione totale e che per tutti era una cittadella rosminiana di studi, in qualche modo unica nell'armonica e organica sintesi di filosofia rosminiana, pedagogia rosminiana, ascesi rosminiana e spiritualità rosminiana. Questa cittadella ideale ebbe pure in quegli anni la sua rivista culturale, e cioè la rivista rosminiana, che sicuramente il liceale Contini leggeva. Dalla sua nascita, nel 1906, la rivista rosminiana rosminiana aveva avuto due serie, la prima diretta da Giuseppe Morando e la seconda diretta da Carlo Caviglione. Si trattava, in entrambi i casi, dell'indirizzo rosminista di cui si è detto. Ma la fatica che ormai si faceva e la conseguente irregolarità delle uscite della pubblicazione portarono nel 1922 alla fine della seconda serie. Così nel 1923 si avviò una terza serie, diretta da Damiano Avancini. Si voleva superare il carattere unicamente teoretico-filosofico e trasformare il periodico in una rivista di cultura, aperta anche all'aspetto letterario e a quello storico. La rivista divenne così soprattutto espressione del mondo rosminiano domese. Le collaborazioni più importanti furono quelle di Antonini, Pusineri, Bozzetti, Nicola, ma anche Gaddo, Rossi e Marino. Emergevano particolari sottolineature che declinavano un indirizzo culturale rosminiano moderno. Chiarire tali sottolineature significa mettere a fuoco i caratteri peculiari del rosminianesimo che anche il giovane Contini andava abbracciando. Un primo carattere era l'attenzione non solo alla filosofia ma anche alla scetica di Rosmini. Un secondo carattere era il legame francescanesimo-rosminianesimo e ciò aveva importanti conseguenze. Da una parte l'attenzione alla vita del mondo materiale e cioè alle ardite e immaginifiche teorie rosminiane dei principi corporei, con la conseguente angelologia. Dall'altra l'interesse per gli studi che il francescano Emilio Chiocchetti andava compiendo sulla filosofia, su Rosmini, ma anche su Croce. Padre Chiocchetti, che era anche membro dell'Associazione Antonio Rosmini, dedicò nel 1920 un importante volume a Croce. Si trattava di un'acuta disamina del crocianesimo condotta con simpatia e consenso da un punto di vista filosofico francescano-rosminiano. Gli elementi costitutivi di tale impianto teoretico erano il sintesismo rosminiano, la cognizione intuitiva per intendere l'arte come cognizione dell'individuale in una linea Ockham-Leibniz-Rosmini, una teodicea come dottrina dell'assoluto trascendente. In sostanza, la via di Chiocchetti era un crocianesimo rosminiano. Dialogando implicitamente con Chiocchetti ed esplicitamente con Zamboni, Bozzetti, sulla rivista rosminiana, presentava allora quello che si può considerare l'asse teorico del neorosminianesimo, criticare Rosmini con Rosmini, superare il primo Rosmini, ma per giungere con solida fondatezza al Rosmini maturo della teosofia. Questa prospettiva apriva alla rivista la cultura contemporanea, compresi gli aspetti estetici, letterari o letterario-filosofici. E tuttavia, dal 1927 al 1929, il tono della rivista ebbe un qualche momentaneo appannamento. Proprio nel 1929, peraltro, Contini lasciò il collegio per Pavia, dove, come sappiamo, frequentò l'università fino alla laurea nel 1933, nel 1934 ebbe una borsa di studio per seguire il Magistero di Santore dei Benedetti a Torino. In ogni caso, in tali anni, i suoi rapporti con i rosminiani di Domodossola, con il collegio e soprattutto con Bozzetti, rimasero strettissimi. Nel periodo universitario pavese, quando Contini conobbe Cesare Angelini e mentre la sua pratica religiosa era sempre salda, egli fu introdotto alla Biblioteca Rosminiana del Calvario, ricca di edizioni rare e di manoscritti. C'è un episodio che, a mio avviso, ben esprime il carattere e la profondità, che definirei identitaria, del legame del giovane Contini con il collegio domese e quasi direi con Rosmini stesso. Si tratta di un episodio di cui non abbiamo documentazioni scritte, ma una tradizione orale intrafamiliare. Questo carattere, se indubbiamente reca un alone di imprecisione storica, tipico delle leggende di famiglia, per lo stesso motivo gli conferisce un timbro di rilevanza in un senso autobiografico allargato, quello per cui l'indimenticabile, forte impressione di un evento diviene canone del lessico familiare. L'episodio si riferisce ad un'udienza papale concessa da più undicesimo a un gruppo rosminiano del quale faceva parte Contini. Lo collocherei dunque senza dubbio nel memorabile pellegrinaggio rosminiano a Roma per l'anno santo della redenzione dal 16 al 19 ottobre 1933. Nell'incontro con più undicesimo, personalità forte e autoritaria che non ammetteva repliche, il Papa appunto salutò i giovani appellandoli come allievi del collegio Mellerio. In un lombardo e ambrosiano come Ratti, il riferimento a Mellerio e l'omissione di Rosmini non potevano essere casuali. Allora Gianfranco Contini precisò Mellerio Rosmini, meritandosi la risentita censura di Pio undicesimo. All'uscita dall'udienza i compagni, che si possono immaginare quantomeno sorpresi, chiesero a Contini perché avesse fatto arrabbiare il Papa. Ma il padre rosminiano che li accompagnava e che doveva essere una delle figure principali dell'istituto, Balsari o Bozzetti tagliò corto. Ha fatto benissimo. Per considerare l'evoluzione storico diacronica del rosminianesimo continiano, giova a distinguere momenti diversi che nell'ambito di una parabola complessivamente discendente, dove cioè il riferimento a Rosmini diminuisce in efficacia, definiscono peraltro differenti modi di ricezione del rosminianesimo stesso. In questa sede restringerò la mia attenzione al primo momento fino circa al 1938. Si ebbe allora la progressiva acquisizione da parte di Contini di un rosminianesimo preeminentemente gnosiologico, con una fondamentale proiezione sull'atteggiamento estetico. Se l'allunato continiano del Collegio fu per lo più caratterizzato, come si è visto, da una sua seria e approfondita formazione in senso rosminiano, compresa un'iniziazione per così dire alla scetica e alla spiritualità di Rosmini, il periodo successivo, gli anni Trenta, vide un suo progressivo ma sicuro inserimento nel contesto intellettuale nazionale dei rosminiani e nella relativa proposta culturale, incarnata dal nuovo indirizzo della rivista rosminiana. Contini diveniva insomma, sia pure senza sovraesposizioni e con un ambito tematicamente definito, una delle voci giovani del rosminianesimo italiano del tempo. Snodo decisivo fu la nuova serie della rivista, avviata nel 1930 sotto la direzione di Viglino. La rivista rosminiana si caratterizzò allora soprattutto per la promozione di discussioni a più voci su grandi temi filosofici, aperti anche a pensatori non rosminiani o addirittura ostili a rosmini. Tuttavia, il contesto complessivo in cui tale proposta doveva inserirsi non era privo di difficoltà. Il dibattito nazionale rischiava di essere egemonizzato dallo scontro tra gentiliani e neotomisti milanesi, come si era visto al congresso di filosofia del 29. La filosofia di rosmini poteva risultarne oscurata, sia per le persistenti critiche della sponda neotomista, che vedeva sempre in rosmini inaccettabili elementi di cantismo, con la quale bisognava fare i conti, sia per il rischio di apparire troppo schiacciati sul filo rosminianesimo gentiliano e in particolare sulla destra attualista o postattualista. Per quanto riguarda la prima sponda, si mostrò più attenzione, rafforzando la continuità bonaventuriano-rosminiana, soprattutto in chiave gnosiologica, e interessandosi a Zamboni, che contemporaneamente veniva estromesso dalla scuola milanese e dall'Università Cattolica. Per quanto riguarda la sponda opposta, un serio e approfondito confronto con Croce Gentile non era più eludibile e diede perciò corpo ad importanti discussioni. Il senso complessivo di tali dibattiti, e dunque la posizione che in quel momento il rosminianesimo italiano assumeva, possono essere sintetizzati, parafrasando successivo e formule continiane, nella concomitanza di due urgenze. Essere post-Crociani senza essere anti-Crociani e insieme essere anti-Gentiliani senza essere post-Gentiliani. In altri termini, quasi per naturale sviluppo, la posizione da assumere nei confronti di Croce sembrava poter essere analoga a quella assunta da Rosmini nei confronti di Kant, non anti-Cantiana, cioè ma post-Cantiana, in particolare riducendo le categorie cantiane ad una sola. E così pure, la posizione da assumere nei confronti di Gentile sembrava poter essere analoga a quella assunta da Rosmini nei confronti di Hegel, non post-Egeliana, anche perché a lui contemporanea, ma anti-Egeliana, opponendo alla dialettica il sintesismo. La proposta culturale forte che la nuova serie della rivista rosminiana avviava nel 1930 voleva realizzare, pertanto, un rinnovato interesse anche per la letteratura, sia continuando l'attenzione al mondo letterario che era stato in relazione con Rosmini e dunque prima di tutto a Manzoni, sia aprendo un fronte nuovo, quello della rubrica scrittori moderni. Contini si trovò ad avere un ruolo su entrambi questi piani culturali, negli interventi su Tomaseo per quanto riguarda il primo ambito, ma soprattutto con i vari saggi di critica militante nella nuova rubrica. Scrittori moderni fu infatti avviata con un suo intervento su Marino Moretti e con un altro di Viglino su Guido da Verona. Ma dopo questa prima prova, forse un po' scolastica, ancorché non priva di originalità e che fu notata e discussa dall'Italia letteraria, Contini si impose come il critico letterario della rivista. Fu il momento della sua maggiore partecipazione al rosminianesimo. Forse è collocabile in questo periodo quel suo prendere in considerazione l'ipotesi di entrare nella vita religiosa nell'Istituto della Carità, di cui abbiamo notizia in diretta. Furono in particolare i tre interventi del 32, su Cecchi, su Thomas Mann e soprattutto su Ungaretti, a dare la misura del salto qualitativo che la rivista compiva e a segnare chiaramente una linea quasi direi filosofica nella critica letteraria. Contini operava, si direbbe, una serie di comparazioni sintetizzate in un circolo solido, non solo comparazioni più lontane tra i diversi autori considerati, ma anche comparazioni più intime tra il singolo autore e la dimensione autobiografica del critico, a loro volta declinate sulle comparazioni tra livelli diversi di profondità conoscitiva e infine comparazioni ellittiche o appena abbozzate con le forme di letteratura sgradite e rifiutate. Contini riusciva dunque con questi impegnativi interventi a dare una precisa fisionomia alla critica letteraria della rivista rosminiana. Insieme originale, nel coevo panorama delle riviste cattoliche, eppure omogenea al rosminianesimo nuovo che doveva caratterizzare il periodico. Si trattava di una fisionomia in qualche modo consanguinea all'ermetismo italiano, anche se sia Contini sia la rivista non intendevano presentarla come tale. Era uno stile critico razionale, ma non razionalistico. Lontano certo dalla prosa di Rosmini e anche dei vari bozzetti, chiocchietti, morando, eppure in qualche modo rosminiano. Le sue fibre costitutive erano ascesi e gnosiologia, ascesi rosminiana e gnosiologia rosminiana. Ciò dava alle analisi continiane un sapore di fondamento razionale saldo, alterno interno al crocianesimo, che altri critici suoi contemporanei, pur mossi da analoghe esigenze rispetto alla lezione di Croce, non sembravano avere. In questo modo la rivista rosminiana, per la sua pagina letteraria, si accostava al precedente della Ronda e soprattutto a Solaria. Il clima era lo stesso, anche se il particolare paesaggio poteva differire. L'altro ambito dell'interesse letterario e storico-letterario della rivista rosminiana era, come si è detto, quello manzoniano, cioè più propriamente dei letterati che furono vicini a Rosmini. In questo contesto Contini pubblicò nel 1932 e nel 1933 due articoli su Tommaseo, autore da lui allora molto studiato. Rilevante nel primo saggio era, tra l'altro, un accenno finale al gianzenismo, che alludeva evidentemente al contemporaneo dibattito sul gianzenismo del Manzoni, aperto dal volume La Terziano di Francesco Ruffini. Su tale volume si erano già tempestivamente espressi in modo critico, bozzetti sulla rivista rosminiana e, sulla Nuova Italia, il fiorentino marchese Piero Fossi, intellettuale di ascendenza cattolico-liberale, collaboratore delle riviste di De Lollis e di Codignola, studioso di Manzoni e di Croce. Omodeo aveva controbattuto alle critiche di Fossi, aderendo alle tesi di Ruffini. Sulla rivista rosminiana, proprio nella pagina che seguiva l'articolo di Contini su Tommaseo, Fossi rispondeva a Omodeo ricevendo il consenso del direttore Viglino. Nel 1933 apparvero sulla rivista di Rosminiani altri due scritti di Contini di particolare importanza. Notevole fu l'introduzione a Montale, come è noto. La cifra fondamentale, come già stato ricordato stamattina, era data da ritrovare in Montale una crisi teoretica in atto. Piero Fossi, lettore e collaboratore, come si è visto, della rivista rosminiana, fece conoscere a Montale l'articolo di Contini che lo riguardava. Montale ne rimase colpito e nel giugno 1933 scrisse al giovane critico. Raramente l'opera mia è stata esaminata con tanta intelligenza e tanto amore. Rispondendo, Contini insisteva sulla crisi teoretica, rilevandone la portata autobiografica. Se il mio articolo non le è spiaciuto, sono lietissimo. Nel rintracciamento di quella crisi teoretica c'è molta autobiografia. Il contatto epistolare portava a registrare una significativa sintonia tra i due interlocutori. Montale, infatti, rispondeva subito. Se passerò da Domodossola non mancherò di avvisarla. Lei ispizionerà il treno agitando un tomo rosminiano in segno di riconoscimento. In realtà il primo incontro avvenne a Firenze nel marzo 1934, ma nello stesso anno, in agosto, Montale ricambiò la visita recandosi a Domodossola insieme alla sua amica Drusilla Tanzi, detta tra gli amici la Mosca, che dopo qualche giorno si recò a Basileo. Contini presentò Montale a padre Bozzetti e ottenne dal padre che Montale stesso e la Mosca, che già conosceva Piero Rebora, incontrassero a Calvario Clemente Rebora. Dallora l'amicizia divenne sempre più forte e intima. L'accenno continiano a una crisi teoretica anche sua è certo interessante. In questa chiave si può forse leggere l'avvio di collaborazioni dal 1933 con altre riviste letterarie, come Espero di Garibaldi e Capasso e soprattutto l'Italia letteraria di Angioletti e poi dal 34 anche Circoli, la rivista Ligure fondata da Adriano Grandi, ormai in orbita solariana. E tuttavia non si può dimenticare che proprio nel 33-34 la collaborazione di Contini alla rivista rosminiana toccò il suo apice. Oltre al saggio Montaliano si segnalavano nel 34 gli interventi su Saba e su Bonsanti e poi su Comisso, in cui era sempre presente una qualche sporgenza agnosiologica. Ma significativa era pure una recensione a due libri, per così dire, mistici pubblicati dall'editrice cattolica morcelliana di Brescia. Pur con dei riconoscimenti, non mancavano le punte critiche. Era un modo sottile per manifestare insoddisfazione per il modo apologetico o semi-apologetico di promuovere la cultura cattolica, cioè per la prospettiva sostenuta da De Luca e contigua al frontespizio e, a certo cattolicesimo, papinianamente filofascista. Intanto, dal novembre 34 Contini era docente all'Iceo Classico di Perugia, dove rimase per due anni, durante i quali però fu spesso a Parigi per congedi di studio. In questo periodo conobbe Aldo Capitini a Perugia, ma stabilì pure importanti rapporti con Giorgio Pasquali. Nel 37 venne comandato alla Crusca a Firenze, ma contemporaneamente si recava pure settimanalmente a Pisa per un incarico di letteratura francese alla Facoltà di Lettere, avendo amichevoli frequentazioni con Luigi Russo. I contatti con la rivista rosminiana andarono allentandosi, ma in qualche modo erano sempre riconosciuti come significativi da entrambe le parti. Una certa soluzione di continuità si ebbe solo dall'agosto del 1938, quando il giovane studioso fu chiamato alla Cattedra di Filologia e Romanza di Friburgo. Il 35 segnava già tuttavia una qualche discontinuità, sia per la rivista rosminiana sia per Contini. In quell'anno Bozzetti era eletto preposito generale dell'Istituto della Carità e perciò si spostava a Roma. Contini mantenne tuttavia con lui un rapporto molto stretto. Tra il dicembre 35 e il gennaio 36 gli scriveva tre lettere che dimostravano grande affetto e sincera gratitudine, chiedendogli un interessamento per il concorso in diplomazia di Andrea Marangoni, figlio dello storico dell'arte Matteo Marangoni e di Drusilla Tanzi, la mosca. Non sono conservate le lettere di risposta di Bozzetti, ma il padre accolse la richiesta. Sempre nel 35 moriva il direttore della rivista rosminiana Camillo Vignino. Il 16 gennaio 36 da Domodossola Contini scriveva a Bozzetti. Ieri l'altro è stato qui a domo l'avvocato Ghiglioni che cercava di lei. Ha potuto vedere solo Don Gaddo. Credo che le scriverà per chiederle l'autorizzazione ad assumere lui la rivista rosminiana, lasciando naturalmente ad altri che lei designerebbe di sorvegliare la parte filosofica della rivista. In effetti la direzione del periodico venne assunta da Giulio Cesare Ghiglione, che peraltro la mantenne solo per un anno. Contini del resto era ormai pendolare tra Perugia e Parigi e Domodossola, ed era sempre più preso dai preminenti interessi per la filologia romanza. Dopo aver ottenuto il passaporto, si recava per un breve soggiorno a Parigi nel dicembre 35 e ne scriveva a Bozzetti. Forse in qualche modo voleva spiegare, se non proprio giustificare, questa sua scelta esterna ed estera al padre rosminiano. Il 30 gennaio 36 gli scriveva infatti da Domodossola. Non posso dirle se sarò qui tra l'11 e il 20. Temo. D'altra parte il collegio, nonostante qualche acquisto del buon Antonini, non è attrezzatissimo per la rifilologia romanza, e i miei propri manuali sono per lo più feri del mestiere, cioè forma senza contenuto. Qualche mese dopo, il 22 ottobre, scrivendogli da Perugia, diceva di sé. Delle mie faccende pratiche non mi sento più sicuro, nel senso che non me ne interesso più in modo da formulare altrettanti idee chiare e distinte. Ed era quasi un'allusione al rosminiano principio di passività che doveva suonare gradito al padre rosminiano. Gli accenti, tuttavia, non erano propriamente ascetici, e nella chiusa della lettera Contini aggiungeva, non mi sento di impegnarmici, e la secchezza di questa lettera, come di quelle che ho scritto in questi giorni alle persone cui voglio bene, non lascerà dubbi, credo ai destinatari sulla psicologia dell'interessato, non in particolare sul devoto affetto molto bisognoso del suo aiuto. In ogni caso Contini diradava, come si è accennato, le collaborazioni alla rivista rosminiana. Soprattutto non la eleggeva più come sede nella quale far uscire i suoi contributi di critica militante. La collaborazione continuò quasi unicamente su registri storico-letterari. Nel 1935 la sua firma sembrerebbe addirittura non comparire sul periodico. In realtà egli vi pubblicò una sintetica scheda, che non compare nelle bibliografie continiane. Vi recensiva l'edizione critica dei rimatori bolognesi del XIII secolo, richiamando l'attenzione sul problema della lingua. I fronti di distanziamento, ma non direi di fuoriuscita dalla rivista rosminiana, furono principalmente due. Da una parte il congedo dall'ungarettismo e in forma più mediata dall'ermetismo, con l'aprirsi dell'attenzione verso Gadda e verso la scoperta dell'espressionismo, o meglio, verso una sua personale visione dell'espressionismo. Dall'altra, attraverso l'amicizia con Capitini, un interesse di tipo nuovo per l'idealismo, in particolare per l'attualismo di sinistra, che guardava con rispetto a Croce, e proprio Croce Contini incontrava personalmente nel 1937. Sul primo fronte fu certo significativo l'approdo di Contini nel 1934, probabilmente anche con la mediazione di Montale, a Solaria, proprio nel momento in cui la rivista, prendendo come modello esprì, accentuava il suo carattere di fronda rispetto al conformismo fascista e subiva così un sequestro. Tale approdo portò agli interventi su Gadda e, con tono che sembrerebbe programmatico, su Cardarelli. Proprio il carattere quasi neorondista di quest'ultimo intervento ci fa capire perché Contini accompagni poi la diaspora dei solariani che seguirono Bonzanti e diedero vita a letteratura, non dunque la diversa via più ideologicamente impegnata di la riforma letteraria di Caroccio in 90. Su letteratura egli scrisse dal primo numero nel 1937, pubblicando la famosa stroncatura del francese macaronico d'Annunziano, che, come è noto e come è stato anche ricordato stamattina, Piacco e a Croce, un po' meno a Bargellini. Sul secondo fronte, il rapporto con Capitini ebbe una decisiva influenza. L'attualismo religioso di Capitini certamente giocò un ruolo profondo. Non si trattava più di essere antigentiliani senza poter essere post-gentiliani. Vi era ora una lettura gentiliana altra che, come attualismo di sinistra, appariva più crocianamente concreta. E tuttavia, da una parte, a differenza del laicismo di Spirito e di Calogero, manteneva l'attenzione religiosa del gentilianesimo, ma la sviluppava in una religione aperta. Dall'altra mostrava un evidente approccio personalistico. Tematiche quali il peccato come problema di umiltà o al centro dell'agire sono persone, potevano avere echi e assonanze rosminiane. Contini non aderiva alla religione aperta di Capitini, ma il suo rosminianesimo era progressivamente ripensato e vissuto da lui come una religione aperta. Non un'immantenizzazione in senso crociano, ma una sorta, per così dire, di metaforizzazione dei vincoli confessionali. Nel 1935, tra l'altro, egli scriveva su Circoli un articolo critico verso Papini e Giuliotti. Nel 1936 il giovane filologo era spesso a Parigi, dove in luglio ebbe la visita del padre Bozzetti, ma anche a Perugia. E proprio dal capoluogo Umbro, il 15 dicembre 1936, scriveva a padre Bozzetti con accenti che mostravano ancora un personale interesse per il rosminianesimo e per la sua immagine pubblica sul piano del dibattito culturale nazionale. Dal 23 al 26 novembre, infatti, vi era stato a Roma il secondo congresso tomistico internazionale, al quale aveva partecipato Bozzetti, intervenendo pure nella discussione seguita alla relazione di Maritain. Contini dunque, informava il generale rosminiano. Nel primo numero ora uscito di Meridiano di Roma, settimanale che succede all'Italia letteraria, vedo un articolo di Siro Contri sul congresso tomistico, nel quale è detto che non era rappresentata la corrente rosminiana, su cui si promette un articolo successivo. Non so se valga la pena di mandare una rettifica. Comunque le segnalo la cosa. Lei potrebbe, semmai, mettersi in relazione con uno dei direttori, che è amico mio e di Don Biagioni, e so che vorrebbe conoscerla, il dottor Giacomo De Benedetti. Nel 36, tuttavia, si ebbe pure un significativo passaggio che voleva forse quasi configurarsi come una dissolvenza incrociata. Da una parte, Contini pubblicò sulla rivista rosminiana, oltre a interventi di poco conto, un emblematico articolo su Clodel. Dall'altra, nello stesso anno, compariva sulla rivista un saggio di Carlo Bo su Maritain. Fu certamente Contini che offrì la sponda della rivista rosminiana a Bo, che cercava un approdo per realizzare la fuoriuscita da frontespizio. I disagi del gruppo cattolico degli armetici verso la rivista fiorentina erano già emersi. Ma proprio l'articolo su Maritain costituì un caso emblematico. Tale articolo, sollecitato da Bargellini, fu consegnato da Bo al direttore del frontespizio nel settembre 1935. Ma intanto si seppe che Maritain aveva firmato il manifesto della sinistra cattolica francese contro l'imperialismo italiano in Etiopia. Il 28 ottobre 1935, Bargellini scrisse allora a Bo, «Non ti meravigliare se ancora non è uscito sul frontespizio il tuo articolo su Maritain. Il Maritain ha cretinissimamente firmato un idiotissimo manifesto contro l'Italia, in compagnia di Dubois, Moriac e Gide. Slombati masturbatori, impotenti angelici finocchi. Insomma, bisogna che l'articolo faccia un po' di quarantena prima di apparire». Bo gli rispose due giorni dopo, «Lo pensavo. Fa come credi meglio. Ma hai letto il manifesto? Io sì, e contro l'Italia non c'è una parola. Del mio articolo non mi importa nulla. Se non vuoi pubblicarlo, rimandalo. Lo darò a qualche d'un altro». In novembre il frontespizio, per la penna di Guido Manacorda, polemizzava contro i francesi. L'articolo di Bo giungeva invece alla rivista rosminiana, con questo segreto antefatto antifascista, che Contini probabilmente conosceva. Del resto, egli, proprio mentre personalmente si staccava dall'ermetismo, dovette pensare che tale riferimento, più in generale nel senso critico-religioso, si adattasse ancora bene alla rivista rosminiana. Contini dunque propiziò la collaborazione al periodico di figure come Carlo Bo e Oreste Macri, e probabilmente pure di Giovanni Macchia. In qualche modo passava a loro il compito di mantenere il tono culturale letterario della rivista che egli stesso aveva impresso, ma dal quale si stava allontanando. Ecco perché ho parlato di una possibile dissolvenza incrociata, che però non si realizzò. Quello di Bo e di Macri non fu infatti un approdo organico e duraturo. In realtà essi cercarono un'altra soluzione. Nel 1938 compirono il passaggio a Campo di Marte. Nel 1936, come si è detto giusto a stretto giro di pagina, usciva sulla rivista rosminiana l'articolo di Contini su Clodel, dopo quello di Bo su Maritain. Nel suo intervento Contini rimarcava l'impressione sgradevole che a prima vista, e innanzi a tanto ingombro, uno può provare. Ancor più perché Clodel non tentava di scendere per la via matematica dei corollari, stretta e piena di rinunzie, e di assumere pian piano le fila di un tessuto rigoroso quanto esclusivo. Contini, al contrario di Clodel, manteneva l'ascetica cristiana nella sua asprezza, cioè nella sua autenticità di combattimento spirituale interiore. Un senso rosminiano, rigoroso, severo e austero, senza estetismi frivoli. Intanto nel 1937 Luigi Russo si adoperava con successo, rivolgendosi a Gentile, affinché Contini ottenesse l'insegnamento di lingua letteratura francese all'Università di Pisa. Vi era insomma, almeno sul piano delle relazioni personali, un avvicinamento di Contini ai gentiliani di sinistra. Nel 1938 egli avrebbe cominciato a collaborare alla Nuova Italia di Codignola. Sempre nel 1937 Dante Morando assumeva la direzione della rivista rosminiana e si presentava a lettori con parole che indicavano continuità, ma con un tono che appariva un po' stancamente tradizionale, forse pure ripetitivo, senza slanci sperimentali e non esente da cadute apologetiche. Contini manteneva i contatti con la rivista, ma potremmo dire sempre più si defilava. In quell'anno vi pubblicavo un testo francescano ritrovato nella Biblioteca del Calvario e un più impegnativo intervento su Michelangelo, che era però il testo di una conferenza tenuta due anni prima a Strasburgo. Piuttosto un rosminianesimo sui generis e soprattutto un rosminianesimo extramenia, poteva essere l'articolo sul Rebora apparso su letteratura. Nel 1938 il trasferimento a Friburgo e le esperienze intellettuali che Contini cominciava ad avere nel contesto universitario elvetico portavano ad una vera cesura. In quell'anno non vi fu alcun articolo per la rivista rosminiana. Tra l'altro, attraverso l'amicizia con De Menace Journet, Contini entrava in contatto con un tomismo nuovo e aperto, un tomismo di respiro veramente europeo, potremmo aggiungere, ben diverso da quello con cui si era confrontato il rosminianesimo italiano. Il 1939 vedeva quindi un passaggio quasi simbolico, con il quale concludo questa mia relazione. Da una parte la rivista rosminiana annunciava con un certo orgoglio. Il Contini, che è il nostro fedele collaboratore, da quest'anno tiene il corso di filologia all'Università Svizzera di Friburgo. Dall'altra, però, Contini ripubblicava in Italia, su Corrente, il suo primo saggio montaliano che, come si è visto, era uscito sulla rivista rosminiana. La rivista milanese Corrente, che sarebbe stata chiusa dal fascismo nel 1940, rappresentò come noto un contesto neomilitante nell'ambito artistico e letterario italiano. La partecipazione di Contini non fu per lui priva di significato e puramente occasionale, come sarebbe stata quella di poco successiva a Primato. Significò il passaggio indolore e coerente da un'attenzione all'attualismo di sinistra, a un interesse per la scuola fenomenologica milanese di Banfi, che era stato tra l'altro vicino a Rebora e che dava il tono alla rivista. In tale contesto culturale, Contini ripubblicava, come si è detto, il suo primo articolo montaliano. Le righe che vi premetteva giustificavano la riedizione nel nome di una continuità di apprezzamento per il poeta. Ma proprio questo risultava nuovo. Che egli cioè potesse espiantare dal contesto rosminiano e trapiantare in un corpo fenomenologico, senza riceverne crisi di rigetto, un cuore critico pulsante, cioè sempre vivo nei suoi medesimi battiti. La lezione di Rosmini, assorbita e fatta proprio da Contini, rimaneva dunque sempre la stessa e anzi in qualche modo riceveva un'indiretta conferma di autenticità. Del resto, nel nuovo contesto, essa poteva acquisire assonanze e riverberi nuovi, quasi richiamando, per esempio, quelle analogie che nel primo novecento Capone e Braga aveva intravisto tra Rosmini e Husserl. Il rosminianesimo di Contini sfociava così nel mare aperto. Non però per disperdersi in esso, ma per diventarne una corrente profonda, con le sue influenze sui movimenti e perfino sulle temperature culturali e sui climi. Grazie. Ringrazio, ringrazio vivamente De Giorgi, perché essendo il tema di questa giornata il giovane Contini con la sua relazione siamo andati veramente alle radici, radici che certamente in maniera generica, generale, erano note, che però nella relazione di De Giorgi sono state descritte, sviscerate, analizzate con una completezza, con una acutezza veramente esemplare. Lo ringrazio vivamente.